Bella ragazzi bentornati da TheKids, TheKids Allora ragazzi, oggi come vedete giocheremo a Golfing Over It Non dite nei commenti, e non Nicola ha copiato Nicola ha copiato, Surry, Nicola ha copiato ToyJ Li ho copiati, ho preso lo spunto perché mi piaceva questo gioco Proviamolo ragazzi Vai, dai, proviamolo Non ci ho mai giocato, l'ho appena scaricato Eccoci ragazzi, siamo arrivati Un attimo a imparare come si gioca Ah ok, lo capito Così, va Oh, un po' difficile Praticamente si gioca Che quando Ok Sono tutto bravo Sono bravissimo a giocare, dai Qui dovremmo fare così Ok Sono tutto forte ragazzi Tutto bravo Sì, questo è bravo Sì, sì Bene Un po' Ok 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 Ora dovremmo andare di qua No Non ci posso credere Non ci posso credere Ora dovremmo cominciare tutto da capo Il massimo che può corpirla Ho visto il video di Surry 6 o 7 volte Non lo so Mannaggia mia Mannaggia No Non ce la faccio proprio Ok Sto registrando con Mobizen Da cellulare Sto giocando Vi taglio sta parte Perché ragazzi Vopro Nadano Raga All'improvviso mi si è uscito Ecco Sono ancora qui Bloccato Ragazzi Dei bei colpi Belli Presi bene Tom E però raga Sono bloccato qui da due ore Non da due ore Ma da dieci minuti qui No Ok Così Raga Non mi va proprio Così Così No Perché non arrivo sopra Raga Non si è Perché raga Raga Per voi è passato un millesimo di secondo Ma sto qua tipo da venti minuti Ma non ce la sto facendo Vai Ok No Che rompi Porca puttata Ok Prima andata Sì Ho capito Che scarica Battere Ma non Per Io Adesso Orgo Non ci posso Credere C'è un così Poi c'è un così C'è un così Poi c'è un così C'è un così Poi c'è un così Raga Mi sto impazzendo Ragazzi sono ancora qui Come è? Tefano Lai a mano al telefono Sì sì Come gioca? Raga Finché non arrivo su Lo stop Perché se no Più di venti minuti Però che no Ce la stavo facendo No E' arrivato Alla fine Mi codo Accendo le registrazioni Di merda Cazzo Mi si blocca Non riesco a giocare Ok 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 Che cazzo Ok Adesso ok Ok Che sfiga Morco Dio Io Casco Devo essere tutto Campione Porca Ragazzi Porca Non riesco a superare Sto merdoso Rive Ultima volta Sennò Poi Poi spiego Il video Basta Ultima volta Proprio Ok 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 ragazzi Questo video finisce qui Condividete il video Lasciate like Aspettate ragazzi Aspettate ragazzi Aspettate ragazzi Grazie.